Cavaliere, tenemo ricca offerta per te. Noi, Ottone detto l'attaccabrighe, per volontà di Dio, principe del sacro romano impero, grande barbasore di Sassonia, duca di Battenberg e di Pomerania, conferiamo al possessore di questa pergamena la proprietà della città e della rocca di Aurocastro delle Puglie, con le vigne, gli armenti e le righezze annesse. Lo cavaliere feudatario face grande giuramento di saggiamente governare la città ed eliminare, eccetera, eccetera. Noi avessimo questa pergamena da uno grande e nobile cavaliero, che ce l'ha detta in punto di morte. Ora noi offriamo a te, Cavaliere Ardito e senza macchia... E senza palanche? ...l'avventura di prendere possesso del ricco feuro e della rocca di Aurocastro al patto che tu fai gran giuramento di spartire ogni ricchezza e ogni bene con tutti noi. Voi sapete chi io sia? Noni! Avrete sentuto, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle. Moi coverto! Groppone da Figulle fu lo più grande capitano di Tuscia. E io sono colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome... Stare attenti! Lo mio nome è Brancaleone da Norcio.